Matrix Resurrection, quarto capitolo della saga diretto da Lana Wachowski. Il concetto del primo Matrix stravolto e aggiornato alla società che viviamo oggi. Ma basta questo a rendere il film indimenticabile come il primo Matrix, come la prima trilogia? Scopriamolo insieme. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Film in uscita. Oggi parlerò con voi di questo Matrix Revolution, di cui non avevo una grande hype, ma una grande curiosità. Sono andato a vederlo con la gioia di rivedere i personaggi della prima trilogia che ho tanto amato in questa nuova veste aggiornata o invecchiata, che dir si voglia, senza grosse aspettative, ma comunque per godermi una storia aggiuntiva che può essere inutile rispetto alla prima trilogia, ma alla fine si parla di intrattenimento, quindi l'intrattenimento non deve essere utile, deve intrattenere. Alla luce di questo tutto mi aspettavo forché che Lana Wachowski, una sola delle due sorelle Wachowski alla regia in questo caso, dissacrasse il proprio figlio, dissacrasse il proprio prodotto, la propria trilogia originale, che forse involontariamente è diventata sacra, è diventata un cult per gli appassionati. Il concetto appunto che c'era alla base di Matrix nel finire degli anni 90 era questo alienamento della società dove non ci sentivamo di esistere, ma ci sentivamo in un loop, in una routine condotta da schemi che continuavamo a fare per percorrere la nostra vita fino alla pensione, fino a morire. C'era questa metafora del risveglio delle coscienze, le persone che si risvegliavano da Matrix e si rendevano conto che non stavano vivendo la vita reale, ma stavano vivendo in questa matrice dove appunto nella finzione narrativa questa matrice era una realtà virtuale indotta da delle macchine che si servivano della nostra energia vitale per alimentare loro stesse. Quindi noi non eravamo più noi padroni del mondo, ma erano diventate le macchine e noi eravamo schiavi inconsapevoli. Ma a differenza per esempio di altri film come Terminator, in Matrix la guerra si svolge tutta all'interno di questo software, di questo programma che è appunto Matrix. Questo film è chiaramente ambientato nella Matrix successiva, i seguiti di Matrix ci hanno insegnato che la Matrix che noi abbiamo vissuto nella prima trilogia non è la prima Matrix, ci sono state altre Matrix in precedenza e sicuramente ce ne sarebbero state altre successive. Sicuramente le macchine, l'architetto che dir si voglia, avranno dovuto ricostruire una nuova Matrix a seguito dello scontro finale di Matrix Revolution, lo scontro in cui il signor Smith aveva annullato tutta l'esistenza e aveva sbilanciato o ribilanciato l'equazione di Matrix. In questa nuova Matrix, in questa nuova società che poi è quella attuale, lo scopriamo dal fatto che non è più incasellata nel finire degli anni 90, ma è incasellata nei primi anni 2020, negli anni che noi stiamo vivendo, chiaramente lo scopriamo dal fatto che c'è più tecnologia, ci sono gli smartphone, c'è la possibilità di scoprire tutto di tutti attraverso i social. E come dice anche un personaggio all'interno di questa saga, l'alienazione, l'alienamento di chi vive questa società moderna non è tanto capire quale sia la realtà dei fatti e quale sia la finzione, ma come noi percepiamo la visione del mondo attraverso i nostri occhi, perché a noi non ce ne frega nulla di cosa è davvero reale. Ci interessano i sentimenti, cosa ci fa battere il cuore, cosa ci spinge avanti e fondamentalmente noi diamo di più tra questa nuova equazione, tra la nostra disperazione nel fare parte di una routine che non amiamo, che non desideriamo, e il desiderio di quello che invece vorremmo essere, di quello che vorremmo fare. E di come questa nuova Matrix, apparentemente pacifica a seguito della tregua di Matrix Revolution, in realtà ci stia tenendo in scacco, giocando appunto con l'illusione della stabilità che noi abbiamo in contrapposizione al desiderio di amore. E di come non ci sbilanciamo mai troppo verso quello che desideriamo per evitare di perdere quello che abbiamo. La classica frase, chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Ecco, la Matrix di questa società moderna ci tiene in scacco in questo modo. E le persone che si risvegliano in questa nuova Matrix sono le persone che invece questo salto lo fanno. Salto anche un po' forse simboleggiato dal salto che fa questo nuovo Neo all'inizio della pellicola. È anche vero che noi non siamo gli eletti come Neo, quindi se saltiamo, prima o poi finiamo in un altro palazzo. Di certo non spicchiamo il volo, solo l'eletto, solo gli eletti riescono a saltare e restare in volo. Questo è un concetto degno di un approfondimento alla Matrix. Peccato che è stato incorniciato in una cornice narrativa troppo confusa, che non rispetta le regole del suo stesso universo, che perde troppo tempo nel primo atto con delle giustificazioni metanarrative, come per scusarsi se questo prodotto non è all'altezza della trilogia originale. Scusarsi e anche prendersi in giro con troppa, troppa autoironia che si vede scopiazza un po' il filone che sta andando adesso per la maggiore, ovvero quello supereroistico, che a sua volta è figlio dell'umorismo sia di Joss Whedon, ma poi edulcorato anche dall'umorismo Disney. Perdendo invece quel sottile umorismo impercettibile che c'era nelle scene di Matrix, nelle poche scene di Matrix dove ci si rilassava. Questo film usa l'autocitazione, la citazione della propria trilogia in modo quasi didascalico, in modo quasi pacchiano. La Nawachowski si vede che ci tiene a dissacrare al suo prodotto, a toglierlo dal piedistallo che si è creato in questi decenni, per farci capire che è più importante il messaggio che vuole dare in questo film, che non la forma, le regole che sono state create per il messaggio stesso nella trilogia originale. Peccato che la forma in cui vengono presentate le cose di Matrix, della serie Matrix originale, sia molto più impeccabile rispetto a questo Matrix, che invece è molto più confusa. E' un elemento molto importante in Matrix la forma. E qui questa forma viene meno, viene meno il rispetto di alcune regole. Il rispetto di se stessi può anche venire meno, seppur è una scelta non condivisibile. Per esempio io questo umorismo dissacrante su se stessi non l'ho apprezzato. Però ci può stare. Ma il fatto che non si rispettino alcune regole narrative che tu stesso hai creato, nonostante questa sia una nuova Matrix, fa un po' zoppicare la pellicola. Anche alla luce del fatto che se le regole sono cambiate, me le devi spiegare. Un concetto invece interessante, anche alla luce del fatto che già nel finale di Matrix Revolution si era arrivati a questa trega o questa pace, è il fatto che ormai nel futuro non esiste più uno scontro tra... o meglio esiste ancora in Matrix. Però il concetto è che nel futuro l'obiettivo non è più vincere una guerra contro le macchine, non è più ribellarsi a questa tecnologia imperante che avanza, ma cercare di convivere. Proprio perché non è il tuffarci nella tecnologia ad alienarci, come ho detto prima, ma è proprio questo desiderio inespresso che ci toglie, ci distoglie dalla realtà, a prescindere del mezzo tecnologico che usiamo per, diciamo, compensare questo nostro desiderio. Il futuro è insieme. Il futuro è dove gli esseri umani, le macchine, la tecnologia riescono a convivere insieme e riescono a fare qualcosa di buono assieme. Quindi non è la macchina, ma è l'uso che se ne fa. Quindi questo è un concetto che andava aggiornato nel 2020 e sono felice che lo abbiano fatto. Adesso vado nella parte spoiler dove narrerò un pochino di più, anche proprio l'inizio della trama, qualcosa che non viene visto, che non si vede nel trailer. Quindi se non volete ascoltare vi consiglio di fermarvi e di riprendere il video quando avete visto il film. Il film vuole quasi convincerci che tutto quello che abbiamo visto nella trilogia originale sia fondamentalmente un videogioco, un videogioco molto fruttuoso. Hanno fatto appunto una trilogia di questo Matrix, anche nella finzione narrativa, e di come il protagonista, Thomas Anderson, ovvero Keanu Reeves, sia il creatore di questo videogioco, quindi lavora sempre in una società informatica, ma non è più un lavoro anonimo e fatto di numeri e di calcoli come nel primo Matrix, ma questo nuovo Thomas Anderson è già un po' più creativo. Ma ha un problema, non riesce, o meglio nel passato, quando ha creato Matrix, non riusciva a distinguere la realtà dalla finzione. Lui era arrivato a credere che Matrix esistesse davvero e che fossimo tutti imprigionati all'interno di essa. Questa presentazione sarebbe stata fantastica se anche noi spettatori avremmo colto questa sfumatura, se anche noi spettatori saremmo stati tratti in inganno da questo messaggio. Invece a noi è chiaro fin da subito che Matrix è esistita perché c'è la scena iniziale con il personaggio di Jessica Henquick. Quindi in questo devo dire che non è stato osato abbastanza. Se avessero osato di più, se ci avessero fatto credere anche a noi, di nuovo, come nel primo film, che tutto quello che abbiamo visto nella prima trilogia in realtà era frutto della mente di uno schizofrenico. Per poi riscoprire invece che Neo era stato di nuovo preso in scacco dalle macchine, allora sì che forse avrebbe fatto centro. Invece qua a noi è chiaro fin da subito che Neo è imprigionato. È Neo che non si rende conto di esserlo. Come se non bastasse questo pretesto per cui Matrix fa sì di mostrare se stessa all'interno di Matrix, quindi si nasconde in bella vista, non va a parare da nessuna parte a livello narrativo. È vero, c'è un messaggio, c'è un bel messaggio metanarrativo che ti fa capire perché la Wachowski ha voluto portare a questo livello il suo prodotto Matrix. Ma a livello narrativo poi questo motivo per cui Matrix è stato messo in bella mostra come videogioco non va da nessuna parte. Avrei compreso se magari questo videogioco sarebbe stato usato come mezzo di pace per far sì che le persone che giocassero si rendessero conto di essere in Matrix. Ma invece non è stato nemmeno spiegato, non è stato detto perché Matrix ha voluto mostrarsi in bella vista, è semplicemente stato detto che lo ha fatto. Viene anche rivisto il concetto di scelta, il concetto di binarietà di uno e zero in una società ormai fluida, piena di scale di grigi o se vogliamo di colori arcobaleno. Peccato che la Wachowski vuole introdurre questo tema dell'inclusività che sicuramente la coinvolge da vicino, in un concetto che si riferisce a equazioni matematiche e non certo in un concetto binario che attua ad escludere le persone genderfluid. Il personaggio appunto di Jessica Hanquick, che in questo film è quella che brilla più di tutti nonostante la sceneggiatura la prenda, la mastichi e la sputi a piacimento a seconda dell'occasione, dice una fantastica frase sul concetto di scelta, proprio per spolverarla ai nostri giorni. Sul non accettare una scelta binaria imposta da questa società, giusto o sbagliato, luce e ombra, ma che il punto della scelta sia un altro, ovvero che nel momento in cui tu sei messo di fronte a una scelta, in realtà tu la scelta l'hai già fatta. A parte questo si va un po' nella ridondanza di questo concetto, come quando mostrano che le macchine si offendono se le chiami macchine, come se fosse diventato un dispregiativo e quindi vengono chiamati senzienti digitali i programmi, sinto senzienti le macchine, senzienti organici gli esseri umani. Quindi c'è anche una strizzatina ad occhio a questo cambiamento di linguaggio che c'è nella società di oggi. Il film che in un certo senso è la creazione dell'analista, l'analista è il nuovo architetto di questa nuova Matrix, che ci tiene particolarmente a far vivere Neo e Trinity in questo modo così orribile, perché producono più energia. La figura dell'analista, che è appunto il nuovo architetto di Matrix, è forse quella più interessante. Di come si è riuscito finalmente andare oltre le analisi matematiche per capire il nostro essere umano, ma andare più in profondità, più a caccia dei nostri desideri più reconditi, un po' come fanno i social network oggi con le proposte pubblicitarie indicate a noi. In questo modo l'analista riesce a farci produrre più energia come batterie umane e incrementare il profitto di Matrix. Quindi apparentemente dandoci quello che vogliamo ma senza farcelo mai raggiungere, in realtà è Matrix, quindi la società che riesce a guadagnare di più. Il villain è così interessante da rendere obsoleta la figura dell'agente Smith che, seppur con altra forma, viene al bisogno, senza spiegazioni e se ne va altrettanto in fretta. Semplicemente c'è, esiste, non si sa perché, nonostante fosse stato sconfitto sia nel primo Matrix sia nel finale della prima trilogia e qua ritorna ancora, sempre senza un motivo, non lo hanno spiegato questa volta ed è una cosa che francamente avrei sopportato se a indossarne il volto ci fosse stato ancora Hugo Webbing, ma dato che c'è anche un nuovo attore non mi spiego proprio la presenza del signor Smith, dell'agente Smith, quando in questo film è chiaro che l'equazione non è più tra lui e Neo, ma tra Neo e Trinity. Altri cameo importanti sono per esempio il cameo del Merovingio, ormai in rovina, mostra come se vent'anni fa era all'apice della società in una villa di lusso circondato dai suoi sgherri, qua invece è ridotto a un homeless, a un barbone, ma anche qui la sua presenza non è assolutamente giustificata, dato che pare che tutti questi errori di programmazione siano stati epurati con la riscrittura di Matrix, non si sa perché siano ancora in giro. Inoltre il Merovingio è forse la figura più metanarrativa di tutto il film ed è anche quella che si è involgarita di più, ci sta, nel senso che il Merovingio aveva già queste cadute di stile imprecando in francese già in Matrix Reloaded, ma qui è talmente metanarrativo da essere fastidioso, da essere fastidioso rendersi conto di come questa nuova trilogia di Matrix, supponendo che sia una nuova trilogia, sia proprio un prodotto meramente commerciale, fatto proprio per farci spendere soldi a noi fan. Ed è interessante che Lana Wachowski ne sia consapevole, ma tratta la cosa davvero in modo molto grezzo. Proprio perché in questa nuova Matrix si scopre, appunto il nuovo architetto, l'analista ha scoperto che la nostra energia è data non tanto dalla realtà, da noi, ma dal rapporto che c'è tra una persona e l'altra, esatto come se fossero dei poli opposti di una batteria, di un elettromagnete, come se ci fosse un acido e una base da tenere vicini ma non troppo. Fondamentalmente si scopre che il potere dell'eletto non è più legato particolarmente a Neo, ma è legato a quello che c'è tra Neo e Trinity, tant'è che alla fine vediamo che è Trinity a riuscire a volare per la prima volta a discapito di Neo che invece non ricorda più come farlo, perché è notevolmente depotenziato da quando era l'eletto della prima trilogia. Tutto questo però non è spiegato, lo si può intuire, è solamente mostrato in un finale fatto un po' velocemente, un po' a cazzo de cane. Francamente non posso dire che mi sia piaciuto come il primo Matrix che è inarrivabile e forse la scelta della regista per questo film è proprio che quel Matrix resti inarrivabile e resti lì dov'è e come questo nuovo Matrix invece sia da prendere per quello che è, un mero prodotto nostalgico ma consapevole di esserlo. Quindi promosso sì, però se andate al cinema con la consapevolezza di quello che andate a vedere. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie.